Sono sicuro che sia entrato in questo video perché vuoi vincere la nuova skin Maxine Angelica con la immagine profilo, spray e pin su Brawl Stars in modo completamente gratuito. Nel video di oggi ti spiego come devi effettuare tutti i passaggi e soprattutto quando verrà consegnata questa skin ai vincitori. Mi raccomando però lascia un mi piace, iscrivetevi al canale, attiva la campanella per non perdere i prossimi fantastici episodi di Brawl Stars e di altri giochi. Sto portando in questi giorni anche un po' di Monopoly Go, altri game e mi raccomando qua sotto trovi altri tre link per seguirmi a 360 gradi. Twitch, TikTok e Instagram mi raccomando. Ultimo, ma non per importanza, nella playlist qua in altro c'è la, diciamo, listino Brawl Starsita con praticamente un sacco di contenuti interessanti che ti consiglio di andare a visionare. Sono praticamente quattro anni di tutorial, quindi dalla A alla Z sai cosa devi fare su Brawl Stars. Concentriamoci sul nuovo Brawl Talk che è finalmente uscito, infatti questo video è un mix tra come vincere la nuova skin e una reaction effettiva a quello che è stato il Brawl Talk. Nella sezione notizie non è ancora stata introdotta la patch notes perché in realtà è stato introdotto il Brawl Talk vero e proprio, ma la patch notes verrà appunto effettuata tra poco, diciamo, nei prossimi giorni, verrà aggiornata e soprattutto pubblicata, che attualmente non è ancora pubblicata. Anche di questo libro se ne parlerà poi nei prossimi giorni perché ho varie notizie da andarvi a dare. Sta per arrivare il mega salvadanaio, big spoiler, probabilmente verrà modificato e quindi anche lì c'è tutto un discorso da fare. Per quanto riguarda la mia lista amicizia mi avete chiesto come sta andando Samu, 92.436 coppe, road to 100k, attualmente volevo fare gli auguri a Player D per il raggiungimento delle 100k coppe, proprio nella giornata, diciamo, di poco tempo fa. Ha raggiunto le 100k, GG Player D per le 100k. Allora, andiamo a vedere il Brawl Talk e parliamo di Maxine Angelica. Allora, il nuovo Brawl Talk si chiama I demoni stanno attaccando Brawl Stars, tradotto letteralmente dall'italiano, dall'inglese all'italiano, e andando ad analizzare, diciamo, le parti più salienti del Brawl Talk, le cose più importanti sono l'aggiunta di nuovi brawler, che adesso andremo a vedere, l'aggiunta di nuove modalità. Ragazzi, ne arrivano veramente tante e sono curioso di presentarvele. La prima è Angel and Demons, evento temporaneo nel quale dobbiamo loggare ogni giorno per sbloccare e capire se siamo angeli o demoni. Si devono aprire gli angelic and demonic drop, quindi arriveranno dei nuovi star drop e si potranno sbloccare delle temporary abilities, un po' sostanzialmente facendo riferimento a quello che è il discorso degli star drop che ci sono stati e delle abilità di SpongeBob. Comunque ne parleremo, usciranno un sacco di contenuti proprio riguardo questo. Arrivano naturalmente anche la versione demonic, che è questa qua di colore naturalmente più rosso. Si potrà andare a scegliere se siamo angelic o demon e naturalmente ci saranno un sacco di contenuti dentro questi drop. I drop saranno principalmente, diciamo, conterranno principalmente dei, delle abilità che andranno ad essere, e verranno inserite dentro il libro delle abilità proprio inerente a questa modalità. Andando avanti nel, nel gioco, quindi andando avanti nel Brawl Talk, vediamo che arriva Maxine Angelica, bellissima skin del quale adesso poi andremo a parlare dopo. Qua stanno presentando in realtà tutte le varie abilità di questo fantastico evento, che però, vabbè, possiamo andare a commentare poi più avanti. Ci saranno delle modalità particolari durante questo temporary mod. Ci sarà questa qui, che state vedendo dietro, che sarà veramente carina, che non vedo l'ora di andare in realtà a provare di base. Sarà veramente interessante anche quel discorso lì. Knockout 5 vs 5, ci saranno tutte delle modalità nelle quali potremmo giocare proprio utilizzando le abilità. Un po' proprio ragazzi come Spongebob, quindi in realtà, senza farla troppo difficile, è proprio il discorso di Spongebob. Trio Showdown, andando avanti, ci viene l'Angel and Demons, quindi queste qua sono le skin in arrivo, e dovrebbero arrivare dei nuovi brawler, non lo so ragazzi se arrivano dei nuovi brawler, però arrivano nuove skin, in particolare Angel, Larry e Lowry, arriva la Radiant, Larry e Lowry, la Dark Angel, Larry e Lowry, uno star drop angelico che apriamo e potremmo trovare dentro questa sfida proprio Lambertis Mortis, Devilish Mortis, Lambert Mortis, un sacco di skin per Mortis. Questo ragazzi ci fa capire chiaramente il discorso che vi stavo dicendo prima. Quindi, cosa si riferiva a quel libro? Proprio delle skin in arrivo di Mortis, che vi avevo già predetto un po' di tempo fa. Non so chi di voi aveva già seguito i video, ve l'avevo detto in tempi non sospetti. Da Dark Angel Edgar, la Lightbeer Edgar, la Nightbringer Edgar, quindi sia Edgar che Mortis, quindi erano tutte e due ragazzi, ogni tanto Edgar, ogni tanto Mortis. Queste sono tutte le skin che arrivano, c'è anche quella che ci verrà regalata. Abbiamo poi Demon Otis, Demon Willow, Demon Amps e un sacco di altre skin. Questa è la nostra ragazzi, la skin che verrà regalata dai creator, e questa che appena è arrivata, dopo vi faccio vedere bene nel dettaglio il mio post Instagram, nel quale spiego le istruzioni, ve lo spiegherò anche nel video di oggi, tramite uno short e Angel Max, ragazzi, la nostra skin. Bella bella, secondo me una delle migliori skin mai regalate dai creator. L'evento andrà avanti dal 7 novembre al 5 dicembre, arriva un nuovo brawler, Juju, brawler mitico, quindi 1800 crediti per sbloccarlo, meno male, perché l'altra volta ragazzi è stato un salasso con i 3800 del nuovo brawler che appena è uscito, Kenji, e quindi meno male che abbiamo invece il buon brawler qua, Juju, che fa diciamo un po' di trower, un po' lancia, fa un po' da zona, non si capisce bene. Lo andremo poi a vedere naturalmente in game e ci saranno un sacco di contenuti. Arriva anche la notizia sul lancio di Juju, che ci dice che arriverà il 30 ottobre in anteprima, quindi il 30 ottobre in anteprima verrà lanciato Juju! Let's go! Allora, mettiamo un attimo soltanto così, eh, proprio per mia curiosità, i sottotitoli in italiano, in modo tale che almeno possiate vedere, diciamo, i sottotitoli fatti bene, perché arrivano le trophy box, arriva la Sky Tales Season, quindi un sacco di roba in realtà in arrivo sotto un determinato punto di vista, si possono accumulare dei trofei stagionali per sbloccare delle casse a fine stagione e perderete soltanto i trofei stagionali, che ricordo, ho fatto anche un video, sono i trofei oltre i mille, quindi se raggiungete mille coppe siete safe, ok? Tutti i brawler mille coppe siete abbastanza safe. Più trofei stagionali avete, più chiaramente sarà alto il livello della vostra classe e chiaramente, tutto questo è correlato, maggiori saranno le ricompense che andrete naturalmente ad affrontare. Bilanceranno la perdita di trofei, dovranno migliorare chiaramente quelli che sono i tempi del matchmaking, ma quando aggiorniamo Drew e l'altro se la piange, ci saranno cambi già dal giorno dell'aggiornamento. La prima stagione di trofei inizierà con la stagione Angeli e Demoni. Brawl Talk, nuovo brawler epico ragazzi, Shade. Vi siete mai spaventati perché dei vestiti sembrano una persona? Shade è qui per farvi prendere un colpo scherzo. È un cumulo di vestiti dolce, però molto in fondo. È amico di Gus e ci spiegano un po' di questo fantastico. Shade, quindi Juju e Shade sono i due nuovi brawler e questo brawler ragazzi arriverà come c'è stato scritto il 29 novembre, ok? Quindi nuovo brawler che arriverà il 29 roverembre. Attacca anche questo brawler attraverso i muri e importantissimo arrivano nuovi operdrive. Otis, Roof e tanti altri dovrebbero essere i classici 6-7 overdrive che vengono aggiunti ad ogni update. Sarà ancora più bello usare le skin degli overdrive perché chiaramente ce ne sono sempre di più. E gli effetti chiaramente rimarranno visibili anche se siamo sconfitti. Interessante. Nella stagione di dicembre tornano gli Star Toon Studios, quindi ragazzi questo aggiornamento ci accompagnerà per novembre e dicembre per poi aver l'aggiornamento di Natale come potete chiaramente immaginare. Queste sono tutte le skin in questione e ragazzoli belli adesso arriva la bombetta perché ci dice di guardare l'hashtag AngelMaxGiveaway. Con il quale adesso vi vorrò far vedere delle cose importanti. Siete pronti? Otis ha arrugginito la business class. Ma ragazzi quante skin! Cioè se uno si vuole comprare tutte le skin di sto gioco veramente ci lascia giù un patrimonio. Eccolo qua ragazzi l'immagine AngelMaxGiveaway. Ma non vi preoccupate perché adesso vi faccio vedere il mio post che spiega tutto nel modo veramente veloce e semplice. Ed eccolo qua il post del quale vi stavo parlando che sta andando benissimo. A proposito andatemi a seguire su Instagram per partecipare perché vi faccio vedere velocemente quali sono le features che dovete seguire. Il giveaway è di quattro skin Maxine Angelica più pin spray e profile picture. Per partecipare dovete mettere mi piace e taggare due persone nei commenti. Seguire in punto vapor su Instagram, seguirmi su Twitch in vapor trattino basso e seguirmi qua su YouTube. Ricordo che potete vincere due skin in modo gratuito e due skin sono esclusive per gli abbonati. Quindi se volete avere più probabilità di vincere la skin potete fare l'abbonamento a 2€ qua su YouTube Real Fun. Oppure effettuare la donazione di un super sticker da 2€. In quel modo avete molta più probabilità di vincere questa skin. Ho veramente pochi abbonati quindi sfruttate questa occasione. L'estrazione verrà fatta il 7 novembre in live. Ci tenevo a dirvi una cosa, se volete ragazzi partecipare taggate due persone sotto questo video. E mi raccomando iscrivetevi al canale YouTube. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se fosse così like, iscrizione, attivazione della campanella e commento. Noi ci vediamo domani alle ore 14 con un nuovo video bomba sempre qua su Invapor. Cliccate uno di questi due video che sono uno più bello dell'altro.